Eccoci siamo arrivati in Emilia Romagna siamo a Ferrara al cospetto della cattedrale da cui partiremo all'esplorazione della pianura delle sue città d'arte e arriveremo anche al mare seguiteci con Italia on the road live tour Grazie a tutti Rimini è il regno dell'ospitalità ci sono mille alberghi ma noi abbiamo una sola casa Grazie a tutti Grazie a tutti